Nel freddo del campo sale di Radispoli per il nuovo Borgo San Martino inizia una settimana intensa di lavoro. Il tecnico mosso prepara il match di domenica sul campo del Colleoppio. La prima di ritorno sarà un impegno probante in palio, tre punti pesanti per la zona salvezza. All'andata fu una gara rocambolesca. I gialloneri sotto di tre reti riuscirono a recuperare lo svantaggio ma persono nel finale. La compagine del main sponsor Grande Impero guarda alla trasferta di domenica tenendo alta la concentrazione. Le ultime tre gare hanno fruttato sette punti, due vittorie e un pareggio e hanno fotografato una squadra in salute che ora non dovrà avere cali di concentrazione. Sì, domenica abbiamo raccolto un punto importante anche se in realtà siamo ramaricati per aver sfumato l'intera posta in palio. Ha detto Dercole, ora ci concentriamo alla partita di domenica e i ragazzi sanno bene che ci attende un avversario molto ostico. Grazie a tutti.